Dai, 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 dagli Monelli, dagli! Abbiamo ritrovato la cometaria del braccialetto, è in tinta con la collana, quindi è perfetto, eh? Se qualcuno ha da replicare i replichi adesso mai più, l'argato si viene la targa al muro. C'è la pena gallinella, che portava giù la stalla, gli ha cacciato la cavalla, conca mia pimpina, don, conca mia pimpina, don. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!